Infine, ma non certo, ultima, Francesca Bellettini, presidente e CEO di Yves Saint Laurent. Un grande ingresso da diva. Senza video. Buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, anche qui però, la potremmo dire in questi terreni, chi l'avrebbe mai detto di vedere una nuova primavera anche per Yves Saint Laurent? Invece è uno dei punti trainanti della corporate vostra che ha già anche degli altri punti di successo forti, con Gucci, con Bottega Veneta. E come ha fatto? È merito tutto suo? No, assolutamente no. La risposta viene proprio naturale e spontanea. Un po' suo? Un po', un po', sì, ma merito di tutti e soprattutto merito del brand. Io sono arrivata in Saint Laurent nel settembre 2013 e l'azienda fatturava circa 580 milioni di euro, aveva un EBIT del 13,8% a fine di quell'anno. E l'anno scorso abbiamo chiuso i conti con un miliardo e mezzo di fatturato e 25% di EBIT. Non si arriva sicuramente al risultato del genere se non ci sono gli ingredienti di partenza giusti fin dall'inizio, perché è assolutamente impossibile creare tutto da zero. Noi avevamo una dimensione giusta per poter spingere, per poter fare una cosiddetta rivoluzione. e la cosa da cui siamo partiti è stato innanzitutto chiarire il posizionamento del brand. Io tra l'altro sono arrivata in Saint Laurent quando il famoso rebranding era già stato fatto qualche mese prima. Per noi il rebranding è stato di grosso valore perché si fondava sui valori storici della Maison. Oggi ci sono tante discussioni, si può parlare o meno del DNA del brand, sì o no. Per me assolutamente sì, il DNA del brand esiste soprattutto quando porti il nome del fondatore. Il nostro market è stato fondato nel 1961 da Yves Saint Laurent e Pierre Berger dopo che Yves Saint Laurent aveva perso il lavoro. Yves Saint Laurent era stato licenziato da Dior, era una crisi depressiva totale e il compagno Pierre Berger ha detto sai che fondiamo una nostra Maison. Quindi dando grandissima fiducia alla creatività hanno fondato la Maison. È stata una buona idea, mi hai perso. Ottima, si è valuta per me. Adesso ho la fortuna di guidare il marchio. Però gli anni d'oro della Saint Laurent sono stati quelli dal 1966 al 1968. L'abbiamo visto prima anche nella slide di Deutsche Bank che non so se era stato fatto di proposito ma ringrazio molto. Perché è stato quando Yves Saint Laurent ha deciso di creare il primo creatore al mondo, il Pret-à-Porter. Quindi di non fare più solamente Haute Couture ma di lanciare la linea di Pret-à-Porter e chiamarla Saint Laurent Riv-Gauch. Quelli sono stati gli anni più fertili del marchio. Quelli in cui è stato aperto un negozio appunto nel Riv-Gauch francese negli anni del 68 dove il marchio si è molto avvicinato alla propria epoca, a quello che stava succedendo. Però lei non era ancora nata. No, però quello che noi abbiamo fatto è stato andare a ripescare all'interno della storia del brand per posizionare il marchio quel momento lì che era stato il momento d'oro perché poi il marchio è andato un po' da tutte le parti. Sono state fatte licenze. Quando io sono arrivata c'erano ancora una ventina di licenze in Giappone con prodotti di tutti i tipi, con nomi di tutti i tipi. Quindi era stato importante rifocalizzare tutta l'azienda su quello che era lo spirito del brand e gli anni d'oro. Nello stesso tempo tutto quello che le persone che sono state prima di me, dai direttori creativi all'amministratore dei ragazzi, hanno fatto ha reso possibile il successo di oggi perché è un marchio che era nato come un marchio di pret-à-porter comunque quando io sono arrivata aveva un portafoglio prodotto estremamente bilanciato con degli accessori molto forti sia le borse che le scarpe che è quello che poi ti dà la marginalità. Un portafoglio di mercati molto bilanciato non dipendeva troppo da nessuna regione né da nessuna nazionalità. Molto forte già sia sul retail che sull'all sale. Io sono appassionata di Formula 1. Quando sono arrivata in San Oran mi sembrava di essere in una 500 con un motore di una Ferrari. Quindi la scelta un po' che abbiamo fatto è stata bene. O mettiamo la scocca della 500 e rimaniamo una bellissima azienda di mezzo milione di fatturato con un bel marchio e stiamo così oppure facciamo la scocca della Ferrari e spingiamo l'acceleratore. E questa è stata la scelta che è stata fatta con François Repinot che fino a quel momento di soldi in San Oran ne aveva già messi tanti. Prima non aveva funzionato così bene perché forse le persone si erano più focalizzate sul prodotto che non sul branding. A quel punto avendo chiarito il brand era il momento di spingere sull'acceleratore e continuare a crescere a far esplodere il brand nel modo in cui aveva già creato la propria forza. Quindi in modo molto bilanciato. Ma come si fa? Se fosse facile lo farebbero tutti, no? Ma innanzitutto... Ci sono tanti nobili decaduti, no? Nella moda, chiamiamole così, no? Però rivitalizzarli oppure, come è stato fatto da voi, non da tanto, addirittura abbattere un'icona come era il marchio storico. Yves. In quel caso noi abbiamo chiamato le cose col proprio nome perché noi non facevamo più Haute Couture ma facevamo solo Pret-a-Porter quindi come Yves Saint-Laurent l'aveva chiamata Saint-Laurent Ribosche noi abbiamo iniziato a chiamare il brand Saint-Laurent Paris perché l'azienda era molto più grande e internazionale e quindi già questo è stato un segnale molto forte a che cosa ci volevamo riferire. E poi dopo quello che è stato fatto e che ha funzionato è stato cercare di portare molta chiarezza e molta attenzione sull'esecuzione. Io penso che un CEO abbia come dovere quello di entrare in un'azienda e snodare i nodi che rendono difficile alle persone lavorare. Credo nelle strutture organizzative che non creano titoli o funzioni per far piacere alle persone ma che semplificano il modo di lavorare. Noi ci siamo focalizzati sulla competenza abbiamo creato tre business unit dedicate alle tre categorie di prodotto quindi pelleteria scarpe e abbigliamento ognuna di queste che gestisce il processo dallo sviluppo del prodotto fino alla consegna al negozio cosa che prima non era così. Tutte riportano ad uno stesso CEO direttore operation che consente lo sfruttamento delle sinergie senza che si perda la focalizzazione sullo specifico. Poi l'altra cosa che per me era fondamentale era dare e mettere la creatività al centro delle aziende esattamente come aveva fatto Pierre Berger la nostra è stata un'azienda fondata sulla fiducia diciamo del CEO verso il direttore creativo e decidere che quando tu hai un brand così forte il brand viene prima di tutto non puoi fare scelte di breve periodo che possano per un successo di breve periodo che possano nel lungo periodo compromettere il brand. Quando vi dicevo prima scelte di prodotto se tu punti solamente ad avere un prodotto di successo ma non ti preoccupi del brand nel nostro settore arriva qualcuno sei mesi dopo che fa il prodotto ancora più bello del tuo non basta è un successo molto effimero deve costruire quello che si sta intorno quindi mettere la creatività al centro dell'azienda vuol dire fare una strategia che fa della creatività un business creare una cultura aziendale di persone che accettano questo che vuol dire che sono molto agili mentalmente che non hanno paura del cambiamento creare una cultura dove non c'è paura perché la cultura della paura frena la creatività se io fossi tutti i minuti o tutte le settimane colpiato sul collo al mio direttore creativo non gli faccio fare più niente questo è un vantaggio essere parte di un gruppo così forte sì e con altri punti di eccellenza sicuramente in che modo? beh innanzitutto parte di un gruppo guidato da François Arripino perché è un visionario in questo perché appunto nonostante avesse già investito moltissimi soldi in Saint Laurent quando ha capito che era il momento giusto non ha esitato un minuto a investirne ancora di più perché noi avevamo 500 milioni di euro e 115 negozi bisognava aprire i negozi espandere i mercati investire nella struttura e lui non ci ha pensato un minuto a farlo e poi ha creato un gruppo dove ci sono delle sinergie nelle parti che non si vedono in quello che può veramente la parte logistica la parte di finanza la parte di gestione delle tesorerie questo vi facilita ovviamente assolutamente quando un marchio raggiunge una certa dimensione poi ovviamente è molto sano sviluppare anche internamente certe competenze però che ne so investimenti in innovazione tecnologica si parlava prima della digitalizzazione di cosa si può fare con l'artificial intelligence questi sono tutti i passi che il gruppo fa e poi mette a disposizione dei brand e quanto c'è in una donna che ha un ruolo manageriale così forte di creatività ah beh se no mi parla come un manager io in realtà più che non so forse posso essere più che essere un manager creativo sono un manager innamorato della creatività nel senso che a me le persone creative affascinano quindi non è un pittore ma un innamorato di quadri esattamente per cui mi entusiasmo delle loro idee quando hanno un'idea nuova voglio farla succedere non penso a quale può essere il problema ma guardo avanti e cerco di poterla realizzare perché avendo grandissimo rispetto soprattutto non voglio fare il loro lavoro la cosa peggiore che può succedere in un'azienda di lusso o di moda è quando il CEO vuole fare il creativo non funziona non hai la stessa sensibilità non hai noi non facciamo niente che la gente compra perché deve soddisfare un bisogno materiale se fuori è freddo e si deve indossare un cappotto non ha bisogno di comprare quello di San Oran se la gente sceglie di fare un acquisto di un bene di lusso è perché deve soddisfare un bisogno emozionale quindi il ruolo del direttore creativo è fondamentale perché deve riuscire a creare questo desiderio e questa emozione se noi smettiamo di fare questo diventiamo delle commodity non serviamo più a niente per cui la ringrazio di non aver messo le sneaker almeno lei c'è stata una dittatura in questa mattinata non si è parlato d'altro ho temuto che anche lei tirasse fuori no vedi no no benissimo benissimo così e da grande cosa vuol fare? vorrei continuare a potermi emozionare nel lavoro che faccio non ritengo che che la dimensione dell'azienda possa essere necessariamente rilevante per fare per fare delle scelte però mi piacerebbe poter continuare a lavorare per progetti interessanti rimanere nel settore in cui sono io non sono nata il mio primo lavoro è stato in investment banking quindi proprio un settore completamente diverso e mi ha insegnato tantissimo però la 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 quando è stato il matrimonio il fidanzamento il fidanzamento è stato grazie a Deutsche Bank tra l'altro perché io ho iniziato in investment banking in Goldman Sachs sono stata tre anni in Goldman Sachs e poi sono passata in Flavio lo sa perché è stata anche un po' colpa sua io sono passata poi in Morgan Grand dopo che era stata acquistata Deutsche Bank e avevano creato questo marchio Deutsche Morgan Grand io mi occupavo di fusione acquisizione avevo questa passione per il lusso e avevo preparato una presentazione che si chiama Pitch per andare a incontrare aziende del lusso e proporre fusione acquisizioni grazie alla rete di Deutsche Bank sono venuta in contatto con diverse aziende italiane insieme ad un partner ai tempi della Morgan Grand li visitavamo e presentavamo la nostra la nostra strategia una di queste aziende era Prada abbiamo presentato questa presentazione e il signor Bertelli aveva in testa di fare un gruppo italiano e quindi fare acquisizioni nella moda e abbiamo iniziato a lavorare con lui su questo un bel giorno mi ha chiamato e mi ha detto senta Bellettini invece di continuare a venire a raccontare storie abbiamo fatto tutte queste acquisizioni venga a lavorare con me che io qua voi mi raccontate queste cose e poi invece le aziende vanno gestite e per me è stato un sogno un sogno in aretino però esatto in aretino però veramente un sogno perché comunque quando sei nell'investment banking vedi tantissimi progetti lavori con molti imprenditori però a me mancava il fatto che poi non vedevo la fine non vedevo come andava a finire soprattutto nel banking fai la transazione fai il deal e poi arrivederci qual è il suo prodotto adesso col prodotto il suo rapporto col prodotto sono una grandissima consumatrice dei prodotti sia nostri che degli altri perché trovo che è una ottima scusa questa per poter anche convincermi non all'esclusiva esatto assolutamente faccio continue ricerche di mercato il prodotto mi affascina molto però mi lascia affascinare nel senso che non indago troppo e non voglio sapere troppo di quello che succederà perché mi fido del direttore creativo che ho e del suo talento e mi piace provare la stessa emozione che poi un consumatore può provare quando viene in contatto con noi non so quando vedo la sfilata io guardo la sfilata non sono uno di quei CEO che sta col te che guardano le modelle proprio le modelle magari no magari guardo i modelli sono molto carini però adesso si deve accontentare ancora per qualche secondo lei è l'ultima ed è l'ultima domanda all'ultima autorevolissima a ospite da lì dalla riva della Senna come vede l'Italia? con un po' di preoccupazione onestamente anche perché io a volte le persone quando parlano con me anche a Parigi si scordano che sono italiana anche se non parlo francese perché dirigo un'azienda francese e quindi l'Italia diventa uno dei mercati e quindi quando ti parlano delle difficoltà di questo paese delle preoccupazioni quando ti presentano degli scenari insomma che non sono molto edificanti anche a livello di business a me scatta poi l'orgoglio l'orgoglio italiano e mi ferisce in realtà non è lo scenario diciamo italiano non è l'unico di quelli che ci preoccupa però dal mio punto di vista è un grandissimo peccato perché soprattutto nel settore in cui siamo noi l'Italia è il motore abbiamo visto prima le aziende fate vedere le statistiche delle aziende del lusso italiane che producono per lo più in Italia ma anche all'interno del gruppo Kering gli italiani sono la nazionalità numero uno e quindi e quindi va bene speriamo un messaggio di speranza piccolino almeno ce lo teniamo in fondo insieme alla preoccupazione beh complimenti posso finire così grazie mille grazie tanto molto piacere grazie e su queste immagini arrivederci grazie a tutti arrivederci all'anno prossimo e per chi desidera c'è un light launch che potete prendere salendo dalle varie scale che ci sono ai vari angoli della sala grazie a tutti